Noi puntiamo soprattutto alla professionalità e alla formazione, oltre che naturalmente il nostro primo obiettivo è quello di fare rete. Questo significa che entriamo tutti su un'unica piattaforma, ci interscambiamo notizie, informazioni e ci sediamo soprattutto ai tavoli istituzionali, che è importantissimo come lavoro che stiamo portando avanti, perché? Perché abbiamo dato dignità a un settore un po' bistrattato. La difficoltà che noi riscontriamo è che spesso si confonde l'attività extralberghiera con l'abusivismo. Questo deve essere assolutamente eliminato. Purtroppo l'abusivo non fa parte del mondo extralberghiero, ma è un personaggio che si butta sul mercato per fare solo naturalmente reddito, non considerando né la normativa né tantomeno la professionalità. E questo danneggia tutti. Danneggia in primis noi, ma danneggia naturalmente un tessuto turistico che adesso sta esplodendo. Grazie anche al contributo della regione, di Puglia Promozioni, il nostro brand Puglia è arrivato in tutto il mondo. La persona che vuole cominciare a lavorare, perché questo è un lavoro vero e proprio, a lavorare nel nostro settore. L'extralberghiero è un modo capillare di fare turismo, perché l'extralberghiero viveva ovunque, nei borghi, nei piccoli comuni. Quindi chiunque potrebbe naturalmente creare un bel approccio con l'ospitalità, perché noi facciamo ospitalità. Si interfaccia con noi per avere naturalmente nozioni sulle normative fondamentali, perché le normative sono tante, pressanti e altre novità stanno anche arrivando. Perché il governo sta mettendo mano ulteriormente alla possibilità, ad esempio, dell'allocazione breve, che ha visto un exploit su tutto il territorio nazionale. E poi serve anche per poter discutere di come approcciarsi con l'ospite, di quali sono le prospettive, di come organizzare anche il proprio lavoro. E noi diamo assistenza a tutto tondo per queste e tantissime altre problematiche.